Poi diceva anche che il fatto che ci possa essere anche l'interruzione della legislatura sarebbe un elemento negativo. Io penso che non si spiegherebbe neanche l'interruzione della legislatura, anche perché i cittadini ci chiedono di lavorare, di andare avanti, di trovare le soluzioni ai problemi, ai tantissimi problemi che oggi vivono. Quindi anche a mio avviso l'interruzione della legislatura non sarebbe un elemento comprensibile e quindi è importante invece lavorare, anche perché il governo ha una maggioranza abbastanza solida, quindi dovrebbe essere andare alle elezioni prima l'ultima possibilità, l'estremo ricorso, ma non si vede perché dovremmo arrivare a questo.